Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di VTD6. Io come sempre sono Manolux. Oggi vediamo il Navarca dei Mari contro il Bucaniere 4-5-5. Non sono riuscito a farlo 5-5-5 perché c'è un bug in cui se lo porti a livello 5 il gioco crasha e non sono riuscito a farlo più potente di così, quindi ci sarebbero stati anche gli aerei che come vedete non ci sono, quindi perdono un bel po' di potenza ma così è, quindi si testa così. Però come prima cosa il Navarca dei Mari si vede che è molto più potente perché i round vanno molto più velocemente distruggendo i dirigibili fin da subito e non sto neanche utilizzando l'abilità, mentre il Bucaniere 5-5-5 ho messo il robottino che utilizza da solo le abilità. Già dal round 99 come vediamo perde a causa di DT quindi gli devo mettere il villaggio per poter distruggere il piombo, sennò non ce la fa, però dopo questo è molto più tranquillo. Come vediamo il Navarca dei Mari è a round altissimi, siamo già a 112 mentre l'altro è indietro, quindi facciamo un salto temporale e andiamo avanti al round 111. Anche per il Bucaniere 5-5-5 dove perde perché ci sono troppi palloncini, quindi gli mettiamo l'alchimista per dargli la pozione per renderlo ancora più forte e semplicemente riesci a superare anche il 111. Come vediamo intanto il Navarca è a round 120, sta andando già superato il round 119 molto facilmente, andiamo ancora avanti. Adesso vediamo il Bucaniere 5-5-5 contro i 3-bet, però non hanno nessun problema, ne fa abbastanza di danni e dopo questo punto, visto un po' la difficoltà, decido di dargli anche il potenziamento dell'ingegnere per dargli più potenza. Siamo entrambi quasi a round 140, vediamo prima il Navarca dei Mari che non ha abbastanza forza per distruggere il bed che scappa, quindi decido di utilizzare l'abilità, mentre il Bucaniere 5-5-5 facilmente ce la fa. Da questo punto decido di utilizzare costantemente e manualmente l'abilità del Navarca dei Mari per distruggere tutti i bed che sono complicati. Andiamo avanti al round 153, che entrambi se la sono cavata molto bene senza nessun altro potenziamento, però il Bucaniere 5-5-5 perde, quindi decido di mettergli la chiamata alle armi del villaggio per dargli ancora più boost e lo sto cercando di potenziare al massimo, questo giro per dargli la massima potenza. Al round 157 il Navarca perde, quindi decido di portarlo al livello 20 fino al round 157 al livello 1, incredibile, ed entrambi adesso ce la fanno abbastanza. arriviamo al round 162 dove Bucaniere 5-5-5 perde, quindi gli metto anche l'altro villaggio per dargli ancora più boost. Ma non serve, quindi come ultima cosa gli mettiamo il villaggio del Viordio del Sole, che gli dà potenziamenti assurdi. Andiamo avanti dove al round 171 il Navarca dei Mari perde e quindi lo portiamo al livello 40, mentre come vediamo il 171 il Bucaniere ce la fa. Adesso riuscirà a guadagnare molta, molta strada. Comunque non sembra, ma il Navarca dei Mari è molto più veloce a macinare il round. Sarebbe quasi il doppio più veloce rispetto al Bucaniere 5-5 a distruggere. Adesso a 174 perde il Bucaniere, quindi gli metto anche il secondo potenziamento del villaggio che diventa ancora più potente. Al 178 il Navarca dei Mari perde, quindi lo portiamo al livello 60. Bucaniere 5-5-5, oltre a quelle potenziamenti lì non so più cosa dargli. Ci sarebbero le altre strade, ma l'ho provato a fare, ma il gioco è crashato malissimo proprio che non voleva fare. Proviamo a dargli ancora gli overclock che permette di dare il villaggio come l'ultima alternativa. E come vediamo adesso il Navarca dei Mari se la sta cavando molto molto bene. Il Navarca dei Mari ha 184 perde, quindi gli mettiamo il livello 80 e si va avanti. Con gli overclock riusciamo a superare il round 181 e arriviamo fino al round 187 dove perde il Bucaniere 5-5-5 e al 187 il Navarca dei Mari perde e lo dobbiamo portare al livello 100. Dopo quello il Bucaniere 5-5-5 non ha avuto più possibilità e continuiamo a vedere la strada del Navarca dei Mari che ha superato facilmente il round 200, il più facile round di tutti, e adesso è solo una questione di fortuna di quanti bad ci arrivano per riuscire a superare tutti questi round. Quando sono non importati è impossibile distruggerli, fortunatamente abbiamo l'abilità, quando abbiamo praticamente tre bad è la fine. Infatti in questo round sono arrivati ben tre bad, riesco a distruggerne due ma al terzo i dirigibili scappano. Ci posso riprovare ma il risultato non cambia. Va bene, spero che questo video del scontro tra Navarca dei Mari e Bucaniere 5-5-5 vi sia piaciuto. Ci vedremo al prossimo confronto, ciao a tutti!